Luciano Sturaro, l'abbiamo conosciuta con il movimento... Dei Forconi, due anni e mezzo fa circa. E poi l'abbiamo vista in televisione in un momento molto difficile della sua vita in cui aveva addirittura pensato al suicidio. Quel maggio 2012 lo ricordo ancora, ma oggi lo ricordo positivamente perché è una condizione, una situazione che ho superato psicologicamente anche da tutti i punti di vista. Per me oggi io sono tranquillo. Tranquillo anche perché nel frattempo è intervunuto una sentenza che ha messo fine a una vicenda molto lunga che riguardava proprio quegli anni. Un accertamento della Guardia di Finanza nella sua azienda che poi ha portato alla chiusura. Alla rovina di me e di mia moglie come imprenditori. Io ero un imprenditore, medio imprenditore nel settore edilizia. La Guardia di Finanza appunto il 25 di agosto 2010 è venuta, ha bloccato l'attività ed è scaturito una constatazione di presunta evasione fiscale di circa 1.200.000 euro e 60 di IRPEG e 60.000 euro di IVA. Un accertamento presuntivo. Presuntivo, fatto sulla presunzione che io fossi un evasore. Lei ha deciso di ricorrere perché non era un evasore. Chiaramente dopo il tentativo di adesione con l'ufficio entrate che io proponevo sul 10%, loro invece al 50-60% io ho fatto ricorso. Ricorso che ha evidenziato il problema in tutta la sua gravità, nel senso che il collegio sindacale e le banche mi hanno obbligato ad accantonare patrimonio proprio in previsione che io perdessi ricorso. E quando naturalmente la posta passiva che ho dovuto mettere in bilancio ha azzerato e portato in negativo il patrimonio netto del gruppo. E quindi sono stato costretto a portare i libri in tribunale ed è stato fallimento. E adesso scopro che lo Stato mi dice che abbiamo sbagliato. Perché lei alla fine questo ricorso l'ha vinto. Io il ricorso l'abbiamo vinto. Quindi adesso cosa mi resta da fare? Nulla, praticamente nulla. Perché la richiesta di danni allo Stato è una strada molto stretta, quasi impossibile da percorrere. L'azienda non gliela ha dei danni dietro a nessuno? No, l'azienda ovviamente è in mano al curatore fallimentare. Che quando un'azienda va in mano, resta in mano a un curatore fallimentare due o tre anni perde tutto il suo valore. Dentro lei ha amarezza? Ma l'amarezza io l'ho superata quando ho deciso di non spararmi. Questo. E quindi o mi sparavo e finiva tutto o l'amarezza la superavo. E l'ho superata. Ovviamente l'ho superata perché? Perché? Perché io sono un credente. Questo Stato lei l'ha osteggiato con i forconi? Adesso forse ancora di più? No, ma diciamo che io penso che questo Stato non possa continuare a rovinare gli italiani, a perseguitare la parte migliore degli italiani. Grazie a tutti. Grazie.